Qual è il significato della festa della donna che ancora tutt'oggi viene celebrata, viene ricordata? Io penso ci sia un duplice significato, il primo purtroppo un po' commerciale, il secondo è quello che preferisco è recuperare, ricordarci che comunque la donna nella sua fragilità è la forza della società e ricordarci questo però, certo l'8 marzo va benissimo ma anche durante tutti gli altri giorni dell'anno conservando rispetto e stima per il genere femminile che porta e tiene in piedi la famiglia, la chiesa anche e il mondo Qual è il ruolo della donna oggi? Considerando anche tutte le battaglie che sono state fatte nel passato per raggiungere una sorta di parità, oggi a che punto siamo? Che ruolo svolge? Il ruolo della donna oggi è una bella domanda, la parità non credo sia stata raggiunta, è una parità ideale Il ruolo della donna oggi è ricordare che c'è un fuoco dentro la persona, c'è un fuoco dentro la famiglia, c'è un fuoco dentro la società che raccoglie e dà calore e questo calore, questa familiarità la dà proprio la presenza della donna con tutte le sue caratteristiche di amore, di capacità di donare e di donarsi Dove sbaglia la donna? A volte nell'essere troppo generosa La festa della donna è stata istituita a me per ricordare un evento tragico Dovrebbe valorizzare in un certo senso la donna la quale ha lottato per conquistare determinati diritti anche se purtroppo, constatando un po' il modo con cui molte donne festeggiano Mi viene da pensare che questo diritto è venuto meno, adesso le donne preferiscono festeggiare non per ricordare una conquista fatta nel corso della storia, nel corso degli anni ma più, ahimè, per, brutto dire, magari abbassarsi a certi livelli, mercificare magari il proprio corpo Partiamo dal presupposto che io spero un giorno, quando sarò grande, di non avere più questa festa perché se nasce la festa della donna è perché c'è bisogno ancora di ribadire i diritti delle donne Io spero che un giorno ci sia parità, la vera parità, che diciamo ci permetta di dire che non c'è più bisogno di festeggiare l'8 marzo quindi secondo me oggi ancora serve molto ricordare l'importanza della parità dei diritti nella società in cui viviamo e forse se in certi contesti occidentali soprattutto è un po' superato nel senso che abbiamo fatto tante battaglie ma abbiamo raggiunto tanti obiettivi ci sono ancora tante parti del mondo, io penso all'India, che a porsi al centro dell'attenzione mondiale è probabilmente fondamentale ancora ricordare l'importanza della donna però speriamo quando almeno avrò 40 anni, ora ne ho 20 che non ci sia più bisogno di dare la mimosa all'8 marzo